Io non credevo di dover farlo questo video, seriamente ve lo dico, perché è una situazione che mi lascia un pochino perplesso, perché mi fa dubitare dell'intelligenza umana, ragazzi. Perché? Perché praticamente ieri, come ben sapete, un paio di giorni fa ci sono state le visite di Perini, ieri sera in tarda serata è arrivata l'ufficialità, quindi Perini è un nuovo giocatore della Juventus, al Genoa vanno 15 milioni complessivi, come avevo detto nel video che ho dedicato, senza contropartire tecniche, con 12 più 3, cioè vuol dire una base fissa di 12 milioni, più 3 di bonus legati alle prestazioni, ai risultati, eccetera, eccetera. Tutto questo è un affare, secondo me, ottimo, nel senso, l'abbiamo detto tutti su YouTube, per il valore che ha Mattia Perini, 15 milioni di euro penso sia proprio un vero affaroni, nel senso Perini sicuramente sarà titolare della Nazionale Italiana, attualmente è più forte di Donnarumma, ha più esperienza e potrebbe seriamente ostacolare il percorso di crescita di voce ex Cesni. Però che cosa succede? Molte persone che si dichiarano fieramente anti-juventine, io avrei problemi a definirmi così, perché vuol dire che avete veramente una vita molto triste, sono delle persone che hanno detto che la Juventus praticamente condiziona l'intera Serie A, dicendo che la Juventus ha degli sconti per dei calciatori che, se fossero andati all'Inter, al Milan, alla Roma, al Napoli, eccetera, sarebbero stati pagati tipo 25-30 milioni. Io vi voglio dire solamente una cosa, non è colpa nostra se al vertice delle vostre società ci sono delle persone che a mala pena sanno aprire la bocca per fare due trattative. Se Marotta e Paratici hanno la prontezza, hanno la capacità di trattativa, hanno anche la possibilità di inserire in futuro eventualmente delle prelazioni per i talenti, a favore del Genoa, di un'altra squadra coinvolta, e di poter prendere un talento come Perina a 15 milioni di euro. È una cosa che va lodata, perché vuol dire che si trattano di due persone che sanno fare il proprio lavoro, e lo fanno nel rispetto delle regole. Se voi non le lodate è perché rosicate come Castori. Purtroppo questa cosa qui non la capite e continuate a nascondervi dietro il dito del fatto che la Juve ha potere in Italia, che la Juventus ruba, che la Juventus frega, che a voi vi stanno a togliere, che a voi siete i migliori.